Bentornati su No Mamamazzo! Anche oggi torniamo a parlare di Dylan Dog, numero 407 dal titolo L'Entità. Prima di cominciare vi ricordo di iscrivervi al mio canale YouTube, ma anche al mio Instagram e alla mia pagina Facebook, dove potete rimanere aggiornati sui prossimi video che pubblicherò. Vi ricordo di attivare la campanella delle notifiche, di condividere il video con tutte le persone che amano Dylan Dog e di commentare qui sotto con quello che pensate del numero in questione. Vi ricordo due cose importanti. Una è che a breve inizierò anche a recensire il fumetto di Buffy, L'Ammazzo Vampiri, perché Joss Whedon ha ben pensato di fare un reboot a fumetti ambientato ai giorni nostri. In ogni caso recensirò il numero 1, se siete interessati scrivetemelo nei commenti che continuerò a recensire anche i prossimi numeri e parlerò anche di quello che c'è stato prima, ovvero della serie TV e poi del continuo ufficiale della serie TV a fumetti nella stagione 8, 9 e 10, che però purtroppo non è ancora uscita in Italia. Questa è la prima cosa. La seconda cosa è che nel prossimo mese, ovvero nel mese di agosto, saranno tre gli appuntamenti con Dylan Dog perché ci sarà il Color Fest, ci sarà l'Old Boy e ci sarà il numero 408. 408 dal titolo Scrutando nell'abisso, che se leggete la seconda di copertina vi farà sbellicare una serie di anziani e vittima di atroci omicidi compiuti nei pressi dei campieri. Mi fa pisciare sotto questa premessa, non vedo l'ora di recensirlo. Ma ora passiamo a quello per cui siete venuti, Dylan Dog 407. Dylan Dog 407, sempre disegnato magistralmente da Corrado Roy, questa volta non più sceneggiato da Roberto Recchioni, che ha concluso il ciclo 666, che comunque continua a essere il curatore della testata Dylan Dog, ma è scritto da Barbara Baraldi. Barbara Baraldi è storica nel team della Bonelli di Dylan Dog ed è anche una scrittrice affermata. Vi ricordo sempre qui sotto che trovate i miei link Amazon, quindi se trovo qualche bel libro di Barbara Baraldi da mettervi qui sotto, potete acquistarlo direttamente dai seguenti link. La storia ha un sapore molto classico, coi disegni di Roy si assapora comunque quell'horror che è mancato per tantissimo tempo in Dylan Dog. Questa è una storia di horror puro, appunto sottolineata dai disegni, peneggiata benissimo anche e soprattutto negli stacchi, nelle battute, nei dialoghi che vengono iniziati in una scena dalla protagonista femminile per poi essere conclusi nella scena successiva da Dylan Dog o viceversa. Questo succede più volte, è fantastico, è tipico di una sceneggiatura molto attenta. Si trova anche in diverse serie tv questo stile di sceneggiatura, mi piace un sacco. Ho notato anche che per la piccola parentesi in flashback cambia leggermente la griglia fumettistica, che non è più quadrata ma è leggermente smussata negli angoli, pur continuando con lo stile classico di Corrado Roy, a differenza per esempio di Samuel Sterna dove i flashback sono in scala di grigi e non in bianco e nero. Ammetto due cose, che uno, un pochino mi manca il Dylan con la barba, vederlo subito così sbarbato mi ha fatto un po' effetto nostalgia di quello con la barba, che comunque ci ha accompagnato per sei mesi, perché è un Dylan nuovo, è un Dylan rinato e la barba ce lo ricordava. Vedere un Dylan così classico effettivamente mi ha un pochino destabilizzato. Forse avrei messo ancora in qualche numero un pochino il cappotto giusto per farci capire che stiamo gradualmente tornando al Dylan classico, però posso anche capire che vogliono utilizzare un'immagine iconica di Dylan Dog da subito in modo che eventualmente in futuro le storie possono essere scambiabili nel caso una arrivi un po' lunga e non possa essere subito pubblicata. Posso capire questo, però avrei preferito un'entrata graduale. Altra cosa, Graucio, che speravo fosse un pochino più presente, quantomeno per il fatto che è anche in copertina, invece è il solito Graucio che fa battute, arriva al momento giusto per lanciare la pistola, ma non è realmente utile alla risoluzione del caso, se così vogliamo, tranne per un suo colpo di genio che come nei migliori dei telefilm, nei migliori episodi di Dottor House, per esempio, qualcosa porta alla mente del protagonista la risoluzione del problema. Però in futuro mi piacerebbe che quando Graucio è in copertina è veramente coprotagonista insieme a Dylan Dog, ovvero dove è parte attiva del numero e non solo una spalla comica, cioè può sempre fare le sue battute ma durante tutto il numero. O mi piacerebbe ancora di più vedere che a causa proprio del fatto che è parte attiva della storia smette un attimino di fare i suoi sproloqui e parla a Dylan come si parlerebbe tra persone normali, come è accaduto alla fine di questo numero, dove gli dice guarda che è normale che ci sia un cellulare insanguinato sulla tua scrivania, sì è normale, ah va bene, ok, perché comunque è un Graucio nuovo che è arrivato a soppiantare Gnaghi. Ecco, un'altra cosa, si citano i numeri precedenti, soprattutto quando si fa riferimento a Block, che è solo una comparsa in questo numero, si cita il fatto che Dylan Dog abbia ucciso una persona nel numero 5, si cita il fatto che è stato Block a nascondere il cadavere di Sybil Brown perché era diventato uno zombie, una ritornante nel numero 402 e qua si scopre finalmente che è stato Block a nascondere il corpo, però non si fa riferimento alla morte di Gnaghi, è un vero peccato, dato che comunque si può sottolineare questa amicizia che Dylan aveva con Gnaghi anche in confronto a questo rapporto di lavoro che ha con Graucio ma che comunque non è così forte il legame di amicizia, primo perché Graucio è abbastanza insopportabile e secondo perché questo Graucio non è come il Graucio pre-Meteora che ha aiutato Dylan Dog a uscire dall'alcolismo. Spero che questa cosa comunque, quando mai Dylan avrà una ricaduta, tornerà ad esserci. Per il numero vero e proprio invece devo dire che sapendo che prima o poi ci sarebbe stata una storia che avrebbe reintrodotto il personaggio di Mana Cerace, ho quasi pensato all'inizio che fosse proprio il buio, il nemico invisibile di cui parlava questa ragazza, finché poi non si è fatto il nome vero e proprio di questa entità e quindi ho capito che non poteva essere Mana Cerace, era un'altra persona, seppur molto simile, mentre Mana Cerace sarà introdotto, credo, in una miniserie, non so se già dal prossimo numero o poco più avanti. Fatto sta che questo numero che è indipendente è un numero a sé, è un classico numero che si può leggere a un inizio, a una fine, si può leggere sotto l'ombrellone perché è pur sempre luglio, come io ho suggerito nella live di Luca DJ dove appunto, perché no, a luglio e agosto, giugno, luglio e agosto, si potrebbero fare dei numeri autoconclusivi e questo è un numero autoconclusivo. E' un numero però molto profondo, pur essendo da ombrellone, parla di un tema molto attuale che è la violenza sulle donne, si parla di questo mostro invisibile che a quanto pare potrebbe essere anche in un certo senso il padre della protagonista che è violento, è stato violento con la madre, è stato violento, è violento con la figlia, si nota come questa figlia quando va in un bar viene comunque aggredita da due sconosciuti, si nomina più di una volta il concetto che quando una donna dice no e no, non bisogna insistere, questa cosa viene detta due volte, o comunque viene detta una volta e viene fatta intuire un'altra volta. Una cosa ancora più bella che è molto chiara all'inizio è quando c'è lo stereotipo della vicina pettegola che serve per dare a Dylan e a noi lettori lo spiegone di cosa è successo al passato di questa ragazza, ma serve anche per farci capire come lo stereotipo della vicina pettegola sia anche spesso e volentieri lo stereotipo della donna che demonizza le altre donne, cioè che dà la colpa della fine di una relazione non a quello che faceva il marito ma alla donna, cioè alla luce del fatto che un marito lascia il tetto coniugale, non in colpa al marito ma in colpa al fatto, pur senza sapere nulla, in colpa al fatto che la donna potrebbe averlo portato all'esasperazione. È pieno purtroppo il web di persone di questo tipo, di donne che invece di dar manforte alle altre donne sono le prime a giudicarle delle puttane, a giudicarle delle stronze, quando invece dovrebbero uscire loro per prime da questo concetto che è maschilista, che è maschilista e che è ancora peggio sentito dalla bocca di un'altra donna. Un altro argomento molto bello di cui parla questo numero, sempre anche per portare avanti il concetto della forza femminile, è il legame che unisce la protagonista a sua madre, quindi un rapporto madre-figlia, perché appunto la madre ha cresciuto da sola questa figlia, di come questo rapporto, di come questo legame d'amore sia più forte del demone stesso che sta cercando di sconfiggere queste due donne. Quindi questo legame d'amore vince su tutto, questo legame d'amore tra madre e figlia, quindi privo di uomini, possa vincere su tutto. È di come la protagonista femminile, cosa che dice all'inizio, poi perde la strada e poi Dylan glielo ricorda, lei basta a se stessa, quindi lei non è la metamela di nessuno, lei è forte da sola. Devo dire che finalmente in 98 pagine sono stato felice di avere avuto una storia completa, una storia non corta, non troppo corta, non comunque vecchia, quindi non una storia che è piena di dialoghi, con i dialoghi al punto giusto, non troppo a effetto serie tv, quindi con l'effetto jumpscare che possiamo ritrovare in recchioni e che è sempre un piacere leggere, ma che spesso ci allontana da quel Dylan di una volta. Qui si può trovare quel Dylan di una volta in chiave moderna, che è quello che è giusto che ci sia adesso. E come sempre, essendo Dylan, c'è un epilogo finale, come sempre si porta a letto la squinzia di turno, di cui lui è sempre innamorato ogni mese di una nuova ragazza, c'è anche un risvolto, c'è anche un plot twist finale, come solo nei vecchi Dylan c'era, in cui si lascia intendere qualcosa, ci si lascia con una frase così, l'amore è un demone, che può anche essere vero fondamentalmente. L'abbiamo visto anche nel numero, se non sbaglio nel numero 6, di Samuel Stern, Valerie, dove lì c'è l'altra faccia dell'amore, c'è l'amore ossessivo, l'amore è un demone. Ora qua non se ne parla, però si è un po' strizzato l'occhio anche a questo lato negativo dell'amore. Però mi piace che il numero sia finito così, in modo che ci si focalizzasse su altro, cioè sugli uomini che credono di avere potere sulle donne e agiscono di conseguenza, purtroppo. Bene, la mia recensione finisce qui, ovviamente non è una recensione clickbait, non voglio appunto spaccare i muri come faccio di solito, è un numero che sancisce un nuovo inizio, finito il ciclo 666. Ah, tra l'altro mi piace tantissimo come sia pulita la copertina, non ci sono più effetti, è una copertina semplicissima, c'è il prezzo qua in basso, il titolo della testata e il titolo dell'episodio. Pulitissima, niente pubblicità, come è di solito una copertina di Samo Esterne, come nelle ultime 6 di Dylan invece mancavano un pochino. Questa pulizia di tratto mi piace un sacco, il copertinista è sempre Gigi Cavenago, che non nomino mai, mi dispiace, non nomino con costanza le persone che ci lavorano dietro, mi dispiace tantissimo, cercherò di migliorare. La mia recensione finisce qua, vi ricordo, come ho già detto all'inizio, che il prossimo mese ci saranno tre appuntamenti con Dylan Dogg, perché si parlerà dell'Old Boy, del Color Fest e del numero classico, quindi sarà un agosto molto ricco di Dylan Dogg, a cui aggiungerò anche la recensione del numero di baffi, del reboot di baffi, quindi sarà un agosto molto ricco, insomma, non andrò in vacanza per voi. Come sempre con l'inchino e con l'imbuto io vi saluto e arrivederci al prossimo incubo.